Soltanto per ricordare che oggi, 6 maggio 2015, è il 39esimo anniversario del terremoto del Friuli. Un terremoto che ha sconvolto il territorio della regione dalla quale provengo, che ha convolto 600.000 persone, ha distrutto centinaia di comuni, 1.000 morti, 100.000 sfollati. Chiudo, Presidente, ma soltanto per ricordare che è stato non soltanto un avvenimento drammatico, con i numeri che ho ricordato, ma anche un avvenimento che ha risvegliato e ha fatto vedere come le popolazioni friulane non soltanto hanno visto il dramma, ma sono state capaci di uscirne con dignità, forza di volontà, che caratterizza quella popolazione e in un anno soltanto sono riusciti a ricostruire i territori e a far tornare i 100.000 sfollati nelle loro terre. Penso sia utile ricordarlo per l'Aula, perché è un elemento virtuoso delle nostre genti ed è anche di quella solidarietà che ha dimostrato il Paese in quell'occasione.